Un programma lungo un mese che prenderà il via domani con un cartellone di eventi sportivi e culturali nel segno dell'inclusione. E sarà presentata la 32esima edizione dell'Atricup che nei fine settimana di giugno animerà gli angoli più suggestivi della città ducale. Si inizia domani con la Corsa di Miguel, la competizione podistica nata nel 2000 a Roma per ricordare il dramma dei Desaparecidos Argentini e che per la prima volta ha un appendice fuori dal circuito capitolino a cui parteciperà tra gli altri anche Michele Maffei, l'Olimpionico di Scherma, testimone dell'attacco terroristico di Monaco 72. Da 15 anni l'Atricup riserva un'attenzione particolare al mondo degli atleti diversamente abili. Il 9 e 10 giugno ci sarà esempio la finale del campionato italiano di calcio riservato agli ipovedenti in cui si sfideranno le squadre di Lecce, Roma, Genova e Crema. Ma la rassegna non è solo sport, sono previsti anche spettacoli e momenti d'arte con la presenza anche di Vittorio Sgarbi che sarà ad Atri sabato 2 giugno alle 21.30 per un incontro su opere e meraviglie della città ducale. Il messaggio dell'Atricup è un messaggio di inclusione sicuramente perché in un mese l'Atricup riesce a coinvolgere attraverso lo sport, la cultura e anche il divertimento tutte le fasce sociali, le famiglie, gli adulti, i bambini, i diversamente abili. Perché l'Atricup si svolge da 32 anni ma da più di 15 anni l'Atricup ha inserito all'interno della manifestazione lo sport dei disabili. Quindi avremo il basket in carrozzina, avremo altre discipline per i non vedenti e insomma moltissime altre attività. Quindi è una manifestazione che valorizza il territorio, valorizza il sentimento e il valore della solidarietà, valorizza chiaramente tutta la comunità di Atri ma non solo, chiaramente tutta la comunità allargata. Un calendario di eventi che va avanti per un mese inizia domani con una sorta di preview, di prologo, la 32esima edizione dell'Atricup. L'Atricup è sicuramente un contenitore. Dura un mese perché ci sono 15 discipline sportive per ragazzi normodotati, 7 per ragazzi ipodotati. Si spazia come serate dallo spettacolo di puro intrattenimento per finire con le serate di moda, di danza, con tutti gli sport meno famosi. Per completare poi il panorama con serate dedicate davvero ad argomenti social o all'arte e alla cultura specifica, quali sono i due che daranno il via alla manifestazione che come tengo a precisare non è esattamente Atricup ma è comunque collegata all'associazione Abruzzo Ontario che per conto del comune e della regione fa parte dell'Abruzzo Open Day, Cerano Femini Festival. Quindi un mese di tutto.